Hey brilli benvenuti in questo nuovissimo video Allora come avevo detto in live facevo un video per spiegare un po' come funzionava questo torneo Allora, semplicemente per partecipare c'è il mio id in descrizione Quindi mi mandate l'amicizia o anche ggdani007 che lo metterò in descrizione Oppure il suo e basta, dovete mandarmi un'amicizia, entrate nella mia isola e proverete a fare il percorso Allora, 10 vite e per il minor tempo 10 euro Io credo che durerà diciamo una settimana e inizierà alle 9 e mezza più o meno di ogni sera E si cercherà di prendere almeno 20 partecipanti Almeno da, capito, da fare qualcosa di abbastanza importante E niente, questo è tutto La mappa l'ho già fatta vedere in live Però comunque è abbastanza semplice A parte in qualche punto un po' più difficile Comunque già in live ci sono stati già 3 partecipanti E uno l'ha finita in 4 Uno l'ha finita in esattamente in 8 minuti Quindi No, in 5, è vero, è vero, sì In 5 minuti Quindi non è poi così difficile Basta con ci concentro in acqua E poi per 10 euro PSN Diciamo che è abbastanza semplice come torneo Commentate qui sotto se volete partecipare E scrivete il nome qui sotto Prima che inizia la live di domani Almeno vi mando, cioè, vi mandiamo l'amicizia a noi E niente Facciamo prima così E ci vediamo alla live di domani sera No Ben Mezza